Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la lezione di oggi parleremo del cono. Nella lezione precedente abbiamo visto il primo solido di rotazione, ovvero il cilindro, ne abbiamo analizzato le formule per le aree di superficie laterale, di base totale, abbiamo visto problemi legati al volume. Ora passiamo al secondo e ultimo solido di rotazione base che studeremo quest'anno, perché dalla prossima lezione andremo a vedere invece cosa succede quando ruotiamo delle poligoni un pochino più complesse e andremo a ottenere appunto dei soliti di rotazione complessi, convessi e concavi. Obiettivi della lezione di oggi saranno quindi applicare la formula diretta dell'area laterale totale di un cono, calcolare il volume di un cono dati in sua raggi e l'altezza e poi, e di nuovo, questo sarà un obiettivo che perseguiremo soprattutto in classe, risolvere problemi complessi legati all'area e al volume di un cono. E' utile, come sempre, fare un breve ripasso della definizione. In particolare il cono noi sappiamo essere il solido che si può generare dalla rotazione completa, ovvero dalla rotazione di 360 gradi, di un triangolo rettangolo intorno ad un suo cateto. Infatti vedete qui in questa figura, abbiamo in arancione evidenziato il nostro triangolo rettangolo, questo è uno dei cateti, questo è l'altro cateto. Il cateto attorno a cui noi effettuiamo la rotazione diventerà l'altezza del cono. L'altro cateto invece va a costituire il raggio di base, in maniera molto simile a quello che succedeva nel caso del cilindro, ma qui abbiamo un elemento in più, ovvero il terzo lato del triangolo rettangolo, ovvero la sua ipotenusa. Questa va a costituire per il cono così generato una dimensione che noi chiameremo apotema. L'apotema l'abbiamo già incontrato nel caso della piramide, infatti come vi avevo accennato il cono ha tra i soli di rotazione il maggior punto di contatto con la piramide. Ovviamente l'altezza del cono, il suo raggio di base, il suo apotema vanno a formare un triangolo rettangolo e quindi saranno legati tra di loro dalla solita formula del teorema di Pitagora, che qui ho scritto nella formula diretta, quella in cui l'ipotenusa, in questo caso l'apotema, è uguale alla radice quadrata della somma dei quadrati dell'altezza del cono e del suo raggio di base. Per capire quali sono le formule per le aree delle varie superfici del cono, dobbiamo fare, così come abbiamo fatto con tutti gli altri solidi che abbiamo studiato, questo dobbiamo fare lo sviluppo piano. E qui ecco una sorpresa, non tanto per la base, intanto vi ricordo il cono a differenza del cilindro ha un'unica base, questa base sarà di nuovo un cerchio di raggio R, R è appunto il raggio di base, quindi qui nessuna sorpresa, l'area di base sarà appunto la formula dell'area del cerchio e quindi esattamente come avevamo per il cilindro l'area di base data da pi greco per raggio alla seconda. E qui di nuovo vi ricordo, sì è importante impararsi le formule a memoria per i vari soldi che studiamo, ma è importante anche per aiutarsi a ricordare quali formule vanno a ripetersi. Ecco questa è una delle formule che vanno a ripetersi, l'area di base del cilindro e l'area di base del cono hanno esattamente la stessa formula. Una cosa un pochino più particolare riguarda invece la superficie laterale, che non è un rettangolo come succedeva nel caso del cilindro o del prisma o del parallelepipedo e così via, ma non è nemmeno un triangolo o una serie di triangoli come succedeva nel caso della piramide. È una figura abbastanza diversa, in particolare spero riconosciate questo non è altro che un settore circolare. Allora, il settore circolare è una figura piana che abbiamo studiato all'inizio dell'anno e come sapete l'area di un settore circolare che abbia raggio R e lunghezza dell'arco di circonferenza, questa parte qui che vi sto indicando, pari a L, ecco, l'area di questo settore circolare è data dalla lunghezza dell'arco per il raggio diviso 2. E ora bisogna fare attenzione perché questi simboli hanno un significato nel caso del settore circolare, ma non corrispondono ai simboli che ho nel caso del cono, ovvero sia questo raggio qui, che è il raggio di base del cono, non è lo stesso R che incontrate qui. Questo è molto importante. Ecco, a questo punto facciamo la trasposizione da un settore circolare qualsiasi al caso del cono. La lunghezza di questo arco di circonferenza non sarà altro che la lunghezza di questa circonferenza, ovvero della circonferenza di base del nostro cono, ovvero sia sarà dato da 2 per pi greco per R. Quindi a L qui vado a sostituire 2 per pi greco per R. E cosa dire riguardo al raggio di questo settore circolare? Adesso non sarà altro che l'apotema del mio cono. Quindi al posto di questo R vado a scrivere A. Quindi eccoci qua la formula dell'area laterale del cono. 2 per pi greco per R per A diviso 2. Ovviamente moltiplicare e dividere per 2 è come dire moltiplicare per 1, questi 2 e 2 li elimino e la formula semplificata non è altro che pi greco per raggio per apotema. Infine l'area totale non sarà altro che la somma dell'area laterale più l'area di base, chiaramente presa una volta sola perché c'è un'unica area di base. E qui ecco il paragonio con la piramide, questa è la stessa formula dell'area della superficie della piramide. È chiaro che la piramide e l'area laterale si trovi in tutta altra maniera, l'area di base si trovi in tutta altra maniera, ma la formula per l'area totale è la stessa. Applichiamo subito le formule che abbiamo visto nello schermo precedente. Leggiamo il problema. Un triangolo rettangolo ha i cateti lunghi rispettivamente 5 cm e 12 cm. Tra altre cose già questi due numeri dovrebbero far suonare un campanello a qualcuno di voi, perché come sempre negli esercizi che riguardano dei triangoli rettangoli noi cerchiamo di utilizzare le terne pitagoriche. Chiaramente io mi aspetto che tutti voi conosciate a memoria la terna pitagorica più semplice, ovvero 3, 4 e 5, ma ce ne sono altre e questi due numeri fanno parte di un'altra di queste terne pitagoriche. Ma vediamo più avanti. Allora, un cono è ottenuto dalla rotazione completa di questo triangolo intorno al suo cateto maggiore. Calcola l'area della superficie totale del cono. Allora, quindi come al solito io cosa faccio? Parto dal disegno del mio triangolo rettangolo, ci scrivo già anche sopra le sue dimensioni, perché poi mi aiuterà a visualizzare a che cosa corrisponderanno. Disegno il cono corrispondente e mi rendo conto che intanto il cateto maggiore, ovvero 12 cm, andrà a costituire l'altezza del mio cono. L'altro cateto, quello di 5 cm, costituirà il raggio di base del mio cono. E qui ho completato i dati a mia disposizione. La domanda è l'area totale del cono. A questo punto passiamo allo svolgimento. E qui si tratta semplicemente di formule dirette. A cominciare a quella dell'area di base, che è pi greco per raggio alla seconda, il raggio è 5, quindi 5 alla seconda per pi greco, 5 alla seconda fa 25, eccolo qua. Di nuovo, vi ricordo per l'ennesima volta, con il pi greco indicato. Per trovare l'area laterale, mi serve tuttavia prima calcolarmi la lunghezza dell'apotema. quindi riprendo la formula che avevo scritto poco fa, ovvero apotema uguale radice quadrata di r alla seconda più h alla seconda, r è 5, quindi 5 alla seconda più 12 alla seconda, e qui chiaramente abbiamo due strade. Una è svolgere i calcoli. Per esempio, 5 alla seconda fa 25, 12 alla seconda fa 144, 25 più 144 fa 169 e la radice quadrata di 169 è 13. Oppure, seconda strada, assolutamente legittima, riconoscere in questi due numeri i primi due termini di un'altra famosissima terna pitagorica primitiva, ovvero la terna pitagorica 5, 12, 13. E appunto il risultato è lo stesso. Andiamo a utilizzare questo numero che abbiamo appena ottenuto e lo infiliamo nella formula dell'area laterale che è pari a pi greco per raggio per apotema, quindi 5 il raggio per 12 per pi greco. 5 per 12 fa 60, quindi l'area laterale è 60 pi greco centibili quadrati. E molto velocemente andiamo a sommare questi due numeri, l'area laterale e l'area di base, 60 pi greco più 25 pi greco, che si possono sommare perché sono tutte e due sommate moltiplicate da un pi greco, quindi sono termini simili. 60 più 25 fa 85, quindi il mio risultato, mi raccomando, con il pi greco indicato, è 85 pi greco centimetri quadrati. Dopo tutti i discorsi che ho fatto riguardo alla somiglianza che ci sono tra cone e piramide, non deve arrivare come una sorpresa il fatto che la formula del volume del cono non è altro che la stessa identica formula che avevamo per la piramide, ovvero il volume è dato da area di base per altezza diviso 3. L'unica differenza chiaramente sarà di nuovo in come vado a calcolare l'area di base, perché abbiamo una formula ben precisa per il cono, nel caso della piramide, vi ricordo, dipenderà da qual è il poligono di base, però a parte questa differenza, la formula è esattamente la stessa, e quindi saranno le stesse anche le formule inverse. Tiriamo il video andando a vedere un esempio di applicazione di formula e volume, e vediamo anche di utilizzare un po' di formule inverse. Leggiamo insieme questo problema. Il volume di un cono misura 768 pi greco metri cubici, notare come ho usato un'unità di misura un po' diversa. Attenzione, leggete sempre bene il testo, perché è molto importante che poi siate coerenti nell'utilizzo delle unità di misura. Se io sto usando metri cubi e metri, i vostri risultati saranno in metri, metri alla seconda, metri al cubo, non in centimetri o millimetri o altro. Sapendo che il cono è alto a 16 metri, calcola la lunghezza dell'apotema. Quindi, scrivo... Scusate, prima disegno la figura, indico sulla figura alcuni elementi importanti, quindi il raggio di base, l'altezza e l'apotema. Scrivo i dati, volume uguale 768 pi greco metri al cubo, altezza uguale 16 metri. La domanda è quanto misura l'apotema? E a questo punto faccio, come mi avete visto fare altre volte, lo svolgimento partendo dalla domanda. Cioè, vuoi sapere l'apotema? Mi scrivo la formula per l'apotema, ovvero H alla seconda più R alla seconda. L'altezza ce l'ho, quindi già lo posso inserire. Ho 16 alla seconda. Non conosco il raggio, quindi mi devo domandare in quale delle varie formule che mi ho visto finora compare il raggio? Ad esempio, compare una forma dell'area di base, che però non ho. Quindi, intanto mi scrivo la formula diversa. Raggio uguale a radici quadrati, area di base diviso pi greco. tutto sotto radici, mi raccomando. Però l'area di base compare una forma e un volume. Allora utilizzo la formula inversa del volume, ovvero area di base uguale a 3 per il volume diviso altezza, ovvero 3 per 768 pi greco diviso 16. Svolgendo i calcoli che, di nuovo, vi invito a verificare da soli a casa. Il risultato è 144 pi greco metri alla seconda. E già questo risultato mi piace perché io so già che il raggio si ottiene con una radice quadrata e so che 144 non è altro che il quadrato di 12. Infatti lo vado a sostituire qui. Ho radice quadrata di 144 pi greco diviso pi greco. Pi greco al numeratore e denominatore si possono eliminare a vicenda. Quindi mi rimane la radice quadrata di 144 che fa 12, mi raccomando, di tal misura che sono i metri. E a questo punto ho tutti gli elementi per calcolarmi l'apotema. Il 12 lo metto qui sotto. Ma non ho bisogno di fare particolari calcoli perché, di nuovo, cercate di conoscere le terne epitagoriche. 12 è 3 per 4, 16 è 4 per 4, quindi il risultato non sarà altro che 5 per 4, ovvero 20. 20 metri è il nostro risultato. Nel prossimo video andremo a vedere i soldi di rotazione composti sia concavi che conversi, ma per oggi è tutto. Arrivederci da Mr. Boscherini.